Professoressa Mapelli, noi siamo in un momento di emergenza, tutta Italia in un momento di emergenza, la didattica però non si ferma, non si deve fermare e non si è fermata. Che cosa sta facendo l'Università di Padova? La didattica all'Università di Padova non si è fermata, abbiamo iniziato fin da subito a mettere in atto delle strategie alternative alla presenza frontale, sia per quanto riguarda le lezioni, sia per quanto riguarda gli esami, che per le sessioni di laurea. Questa settimana, anzi la settimana scorsa, dal 9 di marzo, abbiamo iniziato a derogare tutte le lezioni online in modalità teledidattica e siamo partiti con più di 2000 insegnamenti. Devo dire che l'Università di Padova ha un vantaggio, nel senso che negli ultimi anni abbiamo lavorato molto con la didattica innovativa, per cui avevamo in casa già a disposizione tutte le piattaforme informatiche per poter erogare la didattica online e di fatti siamo riusciti a partire. Molti dei nostri docenti avevano già partecipato a dei corsi erogati anche dal Digital Learning e Multimedia, che è un servizio che noi abbiamo all'interno dell'Università, per cui alcuni di loro, alcuni dei nostri docenti avevano già questo tipo di expertise. Tutti gli altri devo dire che l'hanno imparato nel giro di un weekend, nel giro di pochissimo tempo e siamo riusciti a partire con le lezioni online. La stessa cosa però contemporaneamente quello che a noi sta molto a cuore era di non rallentare le carriere dei nostri studenti e per fare ciò quindi dovevamo anche mettere in atto la modalità online anche per gli esami e anche per le tesi, quindi per le sessioni di laurea. E così abbiamo fatto, quindi abbiamo già erogato moltissimi esami, ci sono già state moltissime sessioni d'esami erogate per via telematica, soprattutto esami orali e anche sessioni di laurea. Professoressa Mapelli, abbiamo un po' di numeri di quanti sono questi esami, quanti sono le lauree che sono state erogate online? Ho i numeri esatti di quanto fatto fino ad ora. Fino ad ora, fino ad oggi, quindi alla giornata di Erna, sono stati erogati 743 esami che hanno coinvolto più di 7100 studenti dell'Università di Padova e sempre, fino ad oggi, siamo riusciti ad erogare un centinaio di sedute di laurea che hanno coinvolto anche lì migliaia di studenti. E anche in questo modo, certo è una modalità differente nel senso lo studente si laurea da casa, dalla propria stanza, dal proprio soggiorno. È una modalità di sicuro anomala, è un'esperienza nuova sia per noi docenti ma sicuramente anche per i nostri studenti. Abbiamo già promesso comunque a tutti i nostri studenti che ci sarà poi un momento conviviale, una cerimonia comune quando ci auguriamo al più presto questa emergenza per il coronavirus sarà finito. Faremo insieme una grande cerimonia, la decideremo dove. Noi abbiamo dei luoghi bellissimi dall'orto botanico, abbiamo tantissime location che potranno ospitare tutti i nostri laureati, ai quali consegneremo la pergamena di laurea logicamente in presenza e lì ci sarà un momento di grande festa per tutti. E sui momenti conviviali mi sento di dire che siamo bravi come nella didattica online. Ma professoressa Mapelli, al di là dei numeri, lei ha un riscontro su come è stato vissuto sia dalla parte dei docenti che dalla parte degli studenti questa didattica online? Allora, il vissuto probabilmente è un po' diverso per tutti, però quello che ci accomuna è che siamo partiti comunque tutti. Tutti i docenti, ripeto, quelli che avevano già più esperienza, quelli che affrontavano questa modalità per la prima volta, tutti quanti però ci siamo impegnati moltissimo, sia i docenti anche con moltissimo supporto anche dal personale tecnico-amministrativo dell'università. Per cui la risposta dell'Ateneo di Padova è stata una risposta pronta, è stata anche una risposta, come dire, positiva. Le ripeto, tutti siamo partiti. Ora, magari non tutti eroghiamo con le stesse modalità, noi abbiamo a disposizione sia una piattaforma per l'erogazione, diciamo, online, lezione sincrona, quindi il docente si collega, così come stiamo facendo ora io e lei, si collega con la sua classe virtuale di studenti, quindi tutti gli studenti vedono il docente. Questa piattaforma che noi abbiamo permette proprio anche un'interazione, ci sono dei pulsanti, ad esempio c'è la manina, in cui lo studente può, tra virgolette, interrompere il docente e segnala il fatto che ha alzato la mano in quel momento, se deve fare delle domande o richiedere degli approfondimenti. Ci sono poi anche delle modalità asincrone, il docente può registrare la lezione prima e poi caricarla sul nostro sito Moodle, che è il sito, praticamente la piattaforma che utilizziamo per tutte queste modalità didattiche. E un'altra modalità è sempre tramite un altro programma, un'altra piattaforma che noi abbiamo, che è Caltura, che permette al docente di registrare, ad esempio, la propria voce, o se vuole, non solo la voce ma anche il volto, sovraimposto alle diapositive che man mano scorrono sullo schermo. Per cui lo studente poi ha la possibilità, come dire, di vedere le diapositive quando vuole, ma con la spiegazione del docente sotto ogni diapositiva. Questa piattaforma, che le dicevo, di Moodle ha poi moltissime funzionalità e permette di creare proprio dei veri e propri forum di discussione, non solo tra il docente e gli studenti, ma noi vediamo anche molta partecipazione tra gli studenti, che si scambiano il materiale tra di loro, fanno le domande e loro stessi, quelli più bravi, rispondono alle domande. Per cui c'è molta interazione, è un'interazione di tipo virtuale, non fatta in presenza. Gli studenti, per quello che almeno è fitto e che abbiamo avuto, sia dei nostri rappresentanti degli studenti, ma anche gli studenti in generale, si ritengono molto soddisfatti, nel senso hanno sicuramente apprezzato il fatto che noi abbiamo risposto prontamente a questa emergenza e non ci siamo fermati in nessun momento, perché siamo partiti, le ripeto, sia con le lezioni, ma abbiamo continuato a derogare esami e sessioni di laurea. E per ora ci ringraziano. Un'altra cosa che non si è fermata e che per la prima volta sarà online, in streaming, è anche l'inaugurazione dell'anno accademico. L'inaugurazione dell'anno accademico, che è un momento importantissimo per ogni università, in particolare per la nostra, che ormai sono quasi 800 anni che inaugura l'anno accademico, non ci sembrava corretto nemmeno fermarci in questo momento. Non ci siamo mai fermati, l'Università di Padua non si è fermata, non solo momenti di emergenza, ma anche momenti storici assolutamente particolari, come durante la Seconda Guerra Mondiale. Non vi anticipo niente, perché l'inaugurazione sarà tra poco e quindi la vedrete, sarà in una forma differente, ma il rettore correttamente ha deciso di procedere con l'inaugurazione dell'anno accademico. Professoressa Mapelli, adesso le chiedo una cosa magari più personale. L'esperienza è ancora poca, perché questa è la prima settimana, le prime due settimane di didattica online. Secondo lei, però, finita questa emergenza, magari anche fra qualche anno, può tornare utile questa esperienza che stiamo facendo? Possiamo pensare a un futuro di didattica, non dico solo online, ma che la didattica online sia importante quanto quella in presenza, oppure no, secondo lei? Allora, tutte le esperienze sono utili, per cui di sicuro non butterebbero via niente da questa esperienza. Una cosa che abbiamo imparato è che di sicuro abbiamo avuto un'alfabetizzazione digitale velocizzata, nel senso che nel giro di pochissimo tempo tutti quanti noi abbiamo, come dire, accumulato un'esperienza in senso digitale impensabile. non butteremo via niente di questa esperienza. Fermo restante, almeno questa è la mia opinione, che nulla toglie la presenza e l'interazione umana tra il docente e il discente. Per cui non appena questa esperienza sarà finita, io mi auguro davvero che tutti, non solo torneremo per le strade, ma nel nostro caso tutti quanti torneremo nelle aule. C'è da dire che però questa esperienza ci lascerà qualcosa di molto prezioso. Ad esempio, sto pensando per tutti i casi di studenti con esigenze particolari. Noi siamo un'università inclusiva, per cui per quegli studenti che per vari motivi non possono raggiungere un'università, noi potremmo approfittare di queste esperienze e per cui parzialmente utilizzare questo online per situazioni particolari. Si potrà decidere poi di non sostituire le lezioni in presenza, ma ad esempio registrare le lezioni anche se in presenza per permettere ad alcuni studenti che ad esempio non possono raggiungere l'università per vari motivi sia di spostamento ma per malattia, oppure per tutta quella categoria di studenti lavoratori che non possono frequentare quotidianamente, ma che comunque potranno usufruire diciamo in maniera sincrona delle lezioni fatte in presenza. Ripeto, non sappiamo ancora esattamente, abbiamo erogato soltanto una settimana, ma è un'esperienza di cui sicuramente faremo tesoro. Professoressa Mapelli, noi la ringraziamo molto e le auguriamo un buon lavoro online. Io ringrazio tutti quanti voi e arrivederci in presenza al più presto.